La promessa anticipazioni. Immagina di trovarti di fronte a un bivio, una scelta che potrebbe trasformare completamente la tua vita. Una promessa è stata fatta, ma è sufficiente? La storia di Leonor ci trascina in un vortice di emozioni, colpi di scena e decisioni che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Cosa succederà quando tutto quello che conosce viene messo in discussione? Nei prossimi episodi assisteremo a un momento cruciale per Leonor. La sua vita sta per prendere una piega inaspettata. Ha ricevuto un'importante proposta che potrebbe stravolgere il suo destino per sempre. Una promessa le è stata fatta, ma sarà davvero sufficiente per lei? La sua ambizione non può essere contenuta nel mondo che conosce, ed è pronta a fare di tutto pur di vedere realizzati i propri sogni. I suoi genitori, preoccupati e sorpresi, non possono credere a quello che sentono. Dove vuoi andare? Le chiedono, la tensione palpabile. La risposta di Leonor li lascia senza parole. Desidera trasferirsi negli Stati Uniti. Un luogo lontano e pieno di incognite. E non è solo un capriccio. Un ricco americano le ha offerto un posto in una prestigiosa rivista di moda a New York. Ha già preso accordi per un alloggio con la zia Mildred. Ma è qui che la promessa viene messa alla prova. Suo padre, il marchese, categoricamente si oppone. Non andrai senza il mio consenso, dice Severo. Ma Leonor non è più disposta ad accettare compromessi. Le cose devono cambiare, risponde, con una determinazione che sconvolge la sua famiglia. E tu? Cosa faresti al posto di Leonor? Commenta qui sotto e raccontaci cosa ne pensi. La sua determinazione è da ammirare o da temere. In parallelo, un'altra vicenda si intreccia. Il conte dell'amata suggerisce a Manuel di ricoverare Jimena in un sanatorio, convinto che sia l'unica soluzione ai problemi che tormentano la famiglia. Maria Fernandez, dal canto suo, è tormentata da incubi che la perseguitano incessantemente. Mentre in cucina, le cuoche e Lopez cercano di confortarla. Non possono fare a meno di preoccuparsi per il suo stato d'animo. Le sue domande su Valentine ricevono solo risposte evasive. E la tensione sale. Nel frattempo, Vera, la nuova cameriera, si confida con Romulo e Pia. Spiega loro la sua difficile situazione familiare, difendendo con passione Lope, il cuoco che ha preso le sue difese. Anche in questo caso, una promessa è in gioco. Vera vuole solo un lavoro stabile, ma le circostanze sono contro di lei. E mentre Romulo cerca di rassicurarla, la Marchesa non è così facilmente convinta. Petra, sospettosa, continua a mettere in dubbio la sincerità della nuova arrivata. E l'atmosfera si carica di tensione. La Marchesa, con il suo solito occhio attento, non si lascia sfuggire nulla. Anche la sua pazienza ha un limite, specialmente quando si tratta di questioni che riguardano Mr. Cavendish e gli affari del palazzo. Eppure, nel mezzo di queste tensioni, Ana, con il cuore appesantito dal rimorso, cerca ancora una volta di ottenere il perdono di Pia. Ma la governante, con la sua inflessibilità, non può dimenticare ciò che Ana ha fatto. Ha messo a rischio la vita di tutti, e questo è qualcosa che va oltre ogni scusa. Nel frattempo, il legame tra Abel e Manuel si rafforza, mentre la trama si complica ulteriormente con l'arrivo di nuovi personaggi e l'evoluzione delle relazioni tra quelli che già conosciamo. Il futuro sembra incerto, e la tensione non fa che crescere. Se sei ancora qui, significa che questa storia ti ha catturato. Quindi, perché non condividere le tue ipotesi nei commenti? Che ne pensi delle scelte di Leonor? E quale sarà il destino di Maria Fernandez? Ma il colpo di scena finale è dietro l'angolo. Con un ritmo incalzante e una suspense che non lascia tregua, le vite dei protagonisti sono intrecciate in una fitta rete di segreti, promesse non mantenute e sogni infranti. Il destino di Leonor si deciderà nei prossimi episodi. Riuscirà a mantenere la sua promessa di inseguire i suoi sogni? Oppure il peso delle aspettative familiari la schiaccerà? Non perdere la prossima puntata, dove ogni promessa sarà messa alla prova e scopriremo chi avrà il coraggio di affrontare le conseguenze delle proprie scelte. E ricorda, la promessa è solo l'inizio. Cosa verrà dopo? Iscriviti al canale per non perderti neanche un secondo di questa avvincente storia. Attiva la campanella e resta con noi, perché quello che ti aspetta nei prossimi episodi è semplicemente imperdibile.